Sono Silvia Rossi e sono un'archeologa di formazione, ma da qualche anno, anche grazie alla Scuola del Patrimonio, mi occupo di processi di partecipazione della società ai temi del patrimonio culturale. Nel 2020 stavamo apprestandoci a organizzare tutti gli eventi e anche le attività legate ai dieci anni di iscrizione del sito seriale I Longobardi in Italia e i luoghi del portiere nella lista del patrimonio mondiale. Erano d'obbligo determinate riflessioni che ho avuto modo di condividere anche con i ricercatori e i tutor della Fondazione Scuola del Patrimonio. Uno di questi temi, molto forte per noi, era la difficoltà di rendere i cittadini partecipi e profondamente consapevoli dei valori del loro patrimonio. Ci siamo chiesti, ma i cittadini di Brescia sono consapevoli che la loro città è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO in relazione alla componente Longobarda. Con il progetto abbiamo cercato di rispondere a questa domanda scattando una loro fotografia mentale, chiedendo quindi in maniera un po' inusuale cosa significassero per loro certi contesti, come questo bellissimo in cui ci troviamo, e cosa ne sapessero al riguardo. Tutta la popolazione di Brescia è stata chiamata a contribuire alla creazione di una nuova narrazione del patrimonio riconosciuto dall'UNESCO, in maniera partecipata, polifonica. Hanno partecipato bambini dai sei anni in su, sino a ottantenni. Tutti i partecipanti hanno contribuito con noi alla creazione di una serie di racconti, di oggetti parlanti e alla creazione di podcast musicali che segnano i confini della zona UNESCO di Brescia. Gli esiti del progetto possono effettivamente costituire una nuova modalità di fruizione, perché i prodotti dei nostri cittadini hanno indicato sicuramente delle nuove strade. Grazie. 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 Grazie.